Cos'è la Sharia? La Sharia è la legge musulmana completa derivata da due fonti. A. Il Corano, B. La Sunna o tradizioni del profeta Muhammad. Pace e benedizione su di lui. Copre ogni aspetto della vita quotidiana, individuale e collettiva. Lo scopo delle leggi islamiche è la protezione dei diritti umani fondamentali degli individui per includere il diritto alla vita, alla proprietà, alla libertà politica e religiosa e alla salvaguardia dei diritti delle donne e delle minoranze. Il basso tasso di criminalità nelle società musulmane è dovuto all'applicazione delle leggi islamiche.